Per la ventiduesima giornata del campionato di prima categoria girone A, il Lucera Calcio sarà ospite domenica pomeriggio del football acquaviva. I biancocelesti con qualche assenza importante a causa di squalifiche dovranno vedersela con la compagine che occupa la quarta posizione in classifica a 38 punti e che è reduce dalla vittoria esterna di 3 a 2 sul Real San Nicandro e su 21 gare giocate ne ha vinte 11 pareggiate 5 e perse 5. Gli altri incontri di questa ventiduesima giornata di campionato sono Sockelmodugno-Real Zaponeta che sarà giocata domenica 23 febbraio alle 11.30, Alle 15 nuova Daunia Foggia, Atletico Acquaviva, Storna della Calcio, Real San Nicandro, Troia, Foggia e Incedit, Virtus Andrea, Real San Giovanni, Virtus Molfetta, Audace Cagnano, Virtus San Ferdinando, Ideale Bari.